Grazie. Grazie. Ma comunque, procedendo dal nostro programma, do ora la parola al professor Marco Ricolfi che ci parlerà della biforcazione tra azioni di validità e azioni di contraffazione, ragioni teoriche e problemi applicativi. Prendogli le slide mi domando come posso attivarle. Le ho viste sulla... eccole lì. Grazie. Grazie all'università e alla organizzatrice professoressa Onoratti, a questo pubblico così ampio e così attento che sta a dimostrare l'importanza di questo tema per tutti quanti. Penso che siamo in un contesto giusto. Io ho preso un po' l'abitudine a raccogliere le sollecitazioni degli internazionalisti a parlare di proprietà intellettuale, perché in qualche modo questo ci aiuta ad avere un contesto meno pregiudicato da scelte e opzioni preventive e vedere le cose con una qualche distanza. Io non ho delle posizioni generali sul brevetto europeo o unificato e sull'accordo sul tribunale, sul tub, sul tribunale unificato dei brevetti. Devo dire che non mi sono ancora fatto tanto un'idea e quindi sono qua soprattutto ad imparare, forte anche del fatto che la materia mia è soprattutto il diritto dei marchi e il diritto d'autore forse, non tanto il diritto dei brevetti nei quali mi considero un relativamente inesperto. Mi è stato per fortuna assegnato un tema abbastanza particolare che è quello della biforcazione, per cui vi dico qualche cosa su questo argomento e sono lieto di aver imparato altre cose su tanti altri argomenti. Le ho imparate ma vanno digerite perché la relazione che mi ha preceduto dimostra come sia estremamente complicata la materia e potessi dire non è soltanto quella delle professoresse onorati, ma tante relazioni ci hanno fatto pensare che questo è un inizio di riflessione. Veniamo al tema nostro, quello della biforcazione. Di che cosa dovrò parlare? Innanzitutto spiegare che cos'è questa biforcazione o bifurcation o split, come viene chiamato, collocarla dentro a un quadro di riferimento, andando poi nel dettaglio, vedendo come la biforcazione è trattata nel sistema del tub e facendo un paragone con il modello concettuale di riferimento che sarebbe quello tedesco. Da questo punto di vista forse ci possono essere dei suggerimenti sulle ragioni che hanno spinto il legislatore, se così possiamo dire, europeo e internazionale a scegliere queste soluzioni. E infine c'è qualche problema interpretativo sul quale so già che glisserò. Punto primo, che cos'è la biforcazione? Perché se abbia una biforcazione bisogna che si abbia un modello ordinario di azione, di contraffazione, di azione brevettuale e poi delle deviazioni, delle eccezioni, delle deroghe. Il modello ordinario è quello in cui il titolare del brevetto agisce in giudizio per ottenere un provvedimento interinale, poi definitivo e conseguenziale, se favorevole, e siccome è convenuto l'asserito contraffatore, la prima cosa che pensa di dire è che il titolo contro di lui azionato non è valido, nel modello ordinario viene proposta in via riconvenzionale o di eccezione, direi l'ipotesi principale è quella della riconvenzionale, l'eccezione si può discutere se sia ammissibile nel sistema europeo ma non mi intrattengo su questo, e le due questioni, se il brevetto sia contraffatto, primo, e se questo sia violato, vengono trattate congiuntamente. Questo è il modello ordinario. Poi noi abbiamo delle situazioni che sono eccezionali, che invece di mantenere attaccati questi due pezzi, queste due metà della mela, in qualche modo le spaccano in due e le allocano in procedimenti diversi e presso giudici diversi. Quindi possiamo avere un'azione di contraffazione da un lato e una domanda riconvenzionale di invalidità o nullità o revoca del brevetto che vengono spezzate, biforcate. Ho detto invalidità, nullità o revoca, non perché siano concetti diversi. La nullità è il termine proprio, la revoca è la conseguenza della declaratoria di nullità, nel senso che se il giudice accerta che il brevetto era nullo, viene revocata la concessione del brevetto medesimo. Poi noi italiani siamo abituati a pensare che la nullità sia una specie del genus invalidità e quindi mettiamo insieme anche questo concetto. Ma quello che interessa qua non è tanto sottilizzare tra invalidità, nullità e revoca, a quanto dire che ci può essere l'eventualità che si separi la questione di contraffazione da quella relativa alla nullità. E l'eventualità che considero nel primo trattino è quello che la domanda di nullità venga proposta dal convenuto nel procedimento di contraffazione. La seconda ipotesi è che si abbia un'azione principale di invalidità e che la contraffazione non venga trattata anch'essa nello stesso processo, anche qui abbiamo una biforcazione. Non è veramente una contraffazione quella in cui si abbia da un lato un'azione di contraffazione iniziata dal titolare, un'azione opposta e simmetrica da parte del possibile convenuto che invece prende l'iniziativa e che chiede al magistrato di accertare che lui non è un contraffattore. Declaratory action nel diritto anglosassone. Così avendo definito il secondo punto, mi domando quali sono i punti di riferimento. Le slide in realtà le ho fatte allora per me, per capire alcune cose che però non ho più tanto bisogno adesso di ripetere a voi perché sono state adeguatamente, ripetutamente, minuziosamente esposte dai relatori che mi precedono e quindi mi limito a ricordare che il tub si compone di una unica corte di appello e poi abbiamo un tribunale di primo grado che come è stato efficacemente esposto, questo tribunale di primo grado si può frazionare a seconda che noi abbiamo una competenza della divisione centrale nella sua sede principale e nelle sezioni di Londra e di Monaco mentre poi abbiamo delle divisioni unità minima locale o aggruppamento o raggruppamento in una divisione regionale. La disciplina in articolo 7 dovrò dire ancora qualche cosa a questo riguardo però vorrei subito osservare ma è stato già detto dalla dottoressa Tavassi che ci può essere un giudice qualificato sotto il profilo tecnico in tutte queste articolazioni, cioè in corte d'appello e nelle tre divisioni centrale, regionale e locale e questo è importante poi ai fini di una valutazione del sistema, quindi un giudice tecnico ci può essere e poi ci può essere il giudice tecnico-tecnico che è richiamato ad hoc senza far parte del panel e anche questo è un istituto generalizzato. Viene adesso la parte più difficile, cioè la illustrazione del concreto della biforcazione e qui bisogna partire da quell'articolo 33 in collegamento al 32 che è stato evocato diverse volte e direi che il punto di partenza deve essere il paragrafo 1 dell'articolo 33 che ci dice che nel caso di azione di contraffazione si ha una competenza secondo la lettera A della divisione locale o regionale del luogo in cui è avvenuta la violazione e il locus commissi delicti e la lettera B aggiunge che come forse qui è il caso di avere sott'occhio la previsione sono proposte dinanzi, lettera A, alla divisione locale ospitata dallo stato membro contraente in cui la violazione si è verificata o, e quindi è un foro alternativo concorrente il criterio qua è quello della sede del convenuto che poi si articola a seconda che il convenuto veramente abbia una sede oppure svolga soltanto attività dove mi sembra che vada segnalato un progresso rispetto al passato perché si risolve il problema della connessione che invece negli strumenti precedenti non era risolto dicendo che è possibile consolidare un'azione contro una pluralità di convenuti qualora i convenuti abbiano una relazione commerciale o l'azione riguardi la stessa serita violazione quindi maggiori possibilità di consolidamento fin qui non vi ho parlato di biforcazione ma arriva ora arriva ora nel caso in cui si abbia una domanda riconvenzionale di nullità quindi il convenuto pensi bene in quello stesso procedimento in cui si difenderà dicendo che non è affatto vero che lui è contraffattore dicendo anche che per la verità il titolo azionato dall'attore in giudizio è affetto da invalidità e anzi deve essere revocato e qui abbiamo il terzo paragrafo dell'articolo 33 il quale ci dà tre ipotesi qui abbiamo dunque la azione contraffazione intentata come abbiamo visto in riferimento al paragrafo 1 di fronte a una divisione locale e regionale individuata ai sensi della norma che avevo prima commentato e abbiamo che viene sollevata una domanda riconvenzionale di nullità e qui si danno tre possibilità la prima possibilità è disciplinata dalla lettera A che ci dice che il procedimento prosegue unificato per esaminare contraffazione e invalidità insieme con l'unica preoccupazione che qui per forza deve esserci un giudice tecnico come è possibile perché si dice se stiamo parlando di invalidità bisogna che ci sia qualcuno che ne capisca della materia ma c'è anche una seconda possibilità che si abbia la biforcazione che è prevista dalla lettera B del paragrafo 3 dell'articolo 33 in questo caso la divisione locale alla facoltà perché qui c'è un'alternativa ma non è scelta dalle parti è scelta dalla divisione di deferire la domanda riconvenzionale di revoca alla divisione centrale quindi la facoltà è quella di biforcare la divisione si tiene l'azione di contraffazione ma per quello che riguarda la nullità o revoca la deferisce alla divisione centrale e che cosa fa dopo avere deferito ha di nuovo due alternative vedete una specie di albero con dei rami che continuano a biforcarsi può a questo punto la divisione locale o regionale o sospendere sulla base del ragionamento finché non si sa se il brevetto è valido o invalido noi non facciamo nulla oppure di procedere con l'azione per violazione la terza ipotesi è quella che si abbia un accordo delle parti che non ci sarà mai che si va davanti alla divisione centrale siccome non ci sarà mai è inutile che vi trattenga su un insieme vuoto ci sono poi una terza una quarta possibilità che si abbia l'iniziativa presa dal asserito preteso possibile contraffattore il quale prende l'iniziativa quante volte consigliamo a un soggetto che ha dei dubbi di essere lui a fare la prima mossa e come può fare la prima mossa con un'azione di accertamento negativo della contraffazione che è previsto dalla lettera B del 32 o un'azione qui non c'è scritto un errore mio della slide un'azione principale a titolo principale di nullità e siamo dentro la lettera D dell'articolo 32 a queste due ipotesi che sono considerate unitariamente si applica il paragrafo 4 dell'articolo 33 che dice alcune belle cose necessariamente l'attore in giudizio che è l'asserito contraffattore deve andare di fronte alla divisione centrale e questa è la fine delle corrette torpedo actions dove l'asserito contraffattore una volta sceglieva di andare dove in Italia o in Belgio perché siccome sono i procedimenti più lenti di tutti si sceglieva quella possibilità adesso invece deve andare a Parigi Londra o a Monaco a seconda del settore merceologico però qui non c'è ancora nessuna biforcazione si ha un percorso obbligato e oneroso indubbiamente anche per il costo dell'avvocato londinese tanto per dirne una se però se già pende un'azione contraffazione ci dice il paragrafo 4 attenzione che è possibile agire in via principale nullità o chiedere accertamento negativo della contraffazione solo dinanzi alla stessa divisione locale o regionale e quindi torniamo all'ipotesi precedente in cui l'azione a titolo principale di nullità viene consolidata con la precedente azione di contraffazione e quindi abbiamo di nuovo le tre possibilità di cui la seconda è la biforcazione è abbastanza complessina la disciplina quindi si può anche in questo caso avere una biforcazione in caso di azione di nullità a titolo principale e la cosa interessante è che se viene iniziata un'azione di nullità o di accertamento negativo un'azione di nullità a titolo principale o di accertamento negativo questa eventualità che vi ho spiegato non vale soltanto nel caso in cui già pendesse un'azione di contraffazione ma anche quando sopravvenga un'azione di contraffazione perché abbiamo il paragrafo 5 articolo 33 che ci dice che il titolare del brevetto può ancora agire di fronte alla divisione locale o regionale competente o la divisione centrale senza limiti di tempo perrebbe quindi abbiamo un'azione principale di nullità iniziata di fronte necessariamente alla divisione centrale il titolare del brevetto la si difende ma nello stesso tempo può decidere di agire in contraffazione e può scegliere se andare di fronte alla divisione locale o regionale che sarebbe competente ai sensi del primo paragrafo oppure visto che c'è controversia di fronte alla divisione centrale andare là quindi non ditemi che non c'è il forum shopping c'è il forum shopping per il titolare sull'azione di accertamento negativo che non c'entra tanto con la biforcazione vi vedrete le slide vi vedrete il 33 6 il paragone col sistema tedesco il sistema tedesco ha dato l'ispirazione alla biforcazione biforcation e split non mi ricordo più come si chiamano trennung trennung's prinzip e me lo sono andato a studiare ho visto il bencard ho visto i grandi tedeschi insomma quello che mi sembra di aver capito tanto poi il professor Ulrich quando sbaglio mi corregge e fa benissimo a correggermi nasce da una sentenza del Bundesverwaltungsgericht del 1959 il quale dice ma come qui tutte le azioni di invalidità dei brevetti vengono udite soltanto dalla commissione dei ricorsi del patent amt che sono amministrative nella loro composizione e quindi non abbiamo tutela giurisdizionale dei diritti questo è contrario al principio della separazione dei poteri dice nel 59 il Bundesverwaltungsgericht e quindi si istituisce una procedura giurisdizionale non più amministrativa con un tribunale apposito che è il Bundespatentgericht al quale vengono deferite le questioni di nullità e a questo punto c'è il problema di come risolvere il problema c'è il problema di come risolvere la concorrenza tra la competenza esclusiva del Bundespatentgericht per la invalidità e revocazione e invece la permanente competenza dei giudici ordinari per la contraffazione e lì c'è il principio della biforcazione per cui nel caso in cui si abbia un'azione contraffazione la contraffazione è udita soltanto è conosciuta soltanto dal giudice ordinario mentre l'azione di nullità viene affidata al Bundespatentgericht il giudice ordinario può sospendere ma nell'85 e 90% dei casi secondo le statistiche che ho raccolto in un volume recente del 2011 il giudice ordinario procede fino in fondo mentre si procede sulla nullità di fronte al Bundespatentgericht perché i tedeschi hanno adottato questo meccanismo secondo me non lo visto scritto da nessuna parte ma l'idea che mi sono fatto è che in Germania grande ossequio al Bundespatentamt all'ufficio dei brevetti se il brevetto è rilasciato è perché si è fatto un esame veramente serio e quindi c'è un omaggio al principio della imperatività del brevetto alla presunzione di validità e d'altro canto non si è voluto abbandonare la competenza giurisdizionale del Bundespatentgericht perché lì c'erano i giudici tecnici che mancano invece nel procedimento ordinario quindi in Germania si è andati avanti con la biforcazione fino ad oggi e si trovano mi dicono molto bene qui il professor Ulrich ci dirasse così ma questo non vuol dire che si abbia un favore del titolare e una situazione ballerina di chi si difende perché se mai ci fosse un'azione di inibitoria di condanna di risarcimento del danno e poi il brevetto dichiarato invalido c'è la restituzione sclage cioè c'è un'azione per ottenere indietro quello che è stato l'oggetto della condanna e i danni subiti dalla condanna quindi un sistema apparentemente squilibrato ma in realtà equilibrato in Europa noi abbiamo qualche cosa del genere no non abbiamo queste spiegazioni non abbiamo queste spiegazioni in primo luogo perché la ragione del giudice tecnico non c'è perché il giudice tecnico c'è sia nel procedimento di contraffazione che in quello di invalidità direi che la ragione di fondo è quella di un favor del titolare del brevetto e io non ho trovato la restituzione sclage disciplinata nell'ordinamento europeo quindi ho l'impressione che si sia adottata la formula tedesca senza le motivazioni tedeschi e inoltre senza avere il correttivo che i tedeschi correttamente hanno invece adottato e qui vi esento da tutta la parte dei rapporti con l'opposizione in questioni interpretative per mettere in discussione qualche cosa che ha detto prima il professor Baratta e molti hanno detto che questo sistema deve per forza essere fatto per favorire i titolari ma non è affatto vero non è affatto vero che un buon sistema brevettuale è un sistema brevettuale che dà incentivi all'innovazione e alla ricerca deve favorire i titolari guardate che l'obiettivo del sistema brevettuale è quello di istituire un bilanciamento tanto più oggi che l'innovazione l'innovazione che usa da tanti componenti minuti spesso brevettati che vanno poi in prodotti a valle innovazione downstream se noi diamo troppa tutela invece che incentivare il progresso tecnologico lo blocchiamo per cui secondo me questo sistema qualcuno ha detto non seguo del tutto perché mi sembra sbagliato è un sistema molto favorevole ai patent trolls io non credo la teoria dei patent trolls ma rende l'idea da uno strumento esageratamente forte in mani titolari dei diritti e questo è un segno di uno sbilanciamento che io personalmente non vedo con favore e credo che stia ad indicare la compromissione di quello che è l'obiettivo fondamentale del sistema brevettuale che è di istituire un bilanciamento di interessi tra il titolare del diritto gli innovatori a valle l'economia nel suo complesso e gli utilizzatori è una piccola spia ma non è un elemento che mi rende particolarmente simpatico questo edificio grazie 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 a tutti